Afremont significa assistenti familiari reti integrate in montagna. È un progetto importante perché coinvolge ben 201 comuni delle aree montane e rurali della provincia di Torino e vede collaborare la città metropolitana con molte cooperative, agenzie formative e i consorzi dei servizi socioassistenziali del nostro territorio. L'obiettivo che si pone a Afremont è quello di sostenere quelle famiglie che quotidianamente si occupano della cura dei propri cari nelle loro case. Afremont in particolare vuole rispondere al bisogno di quelle persone che, limitate nella propria autonomia, vivono in quei territori in cui l'accesso ai servizi di prima necessità è meno agevole e il reperimento di assistenti familiari è più difficile. Afremont è un ottimo progetto perché prevede un percorso di sostegno e accompagnamento reale ai familiari della persona che ha necessità di assistenza in modo che si possano valutare correttamente i bisogni di cura e si possa arrivare ad individuare l'assistente familiare che risponda proprio alle necessità della famiglia. Il progetto offre anche un aiuto concreto nell'affrontare la complessità di aspetti quali ad esempio quali normativi e contrattuali collegati all'assunzione dell'assistente familiare e garantisce alla famiglia un sostegno anche successivamente all'assunzione qualora si presentassero delle difficoltà. Afremont è un'ottima iniziativa anche perché si prende cura dell'accrescimento delle competenze e degli assistenti familiari sia attraverso specifici percorsi formativi sia valorizzando le esperienze lavorative pregresse eventualmente svolte nell'ambito dell'assistenza. Se hai bisogno di un assistente familiare non puoi non partecipare ad Afremont. Grazie a tutti.